Giovedì 3 ottobre, buongiorno, ben svegliati, il buongiorno arriva anche da Pietro Baldassare questa mattina in regia, tra poco andremo a sfogliare le prime pagine delle 4 edizioni del quotidiano Il Centro, poi ci soffermeremo in maniera più approfondita sulle pagine del messaggero. Il Centro questa mattina dedica un titolo importante alla vicenda di Rigopiano, la tragedia del 2017, mentre Il Messaggero si sofferma in modo particolare sulle questioni che riguardano la vicenda della Chemipol, l'azienda che produce solventi che è andata distrutta, parzialmente distrutta nell'incendio dell'altro giorno. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara per quanto riguarda Il Centro, Rigopiano, anno zero, ecco le foto mai viste del resort distrutto dalla catastrofe con 29 morti, oggi le carte dicono valanga già prevista nel 1999. Le altre notizie, preso l'accoltellatore del 15enne a Pescara, è un 18enne residente a Montesilvano, tentato omicidio per una ragazza. Calcio serie C, il Pescara domenica di scena ad Ascoli, squizzato, ecco il nuovo regista, con Lonardi, K.O., il mediano pronto per il posto da titolare. Montesilvano, passeggero morto sul bus, l'autista ora è indagato. Le altre notizie, Pescara segue la ex e butta l'acido sulla sua auto, in taglio alto, hackerato, telespazio e violati dati, top secret, arrestato un 24-3 nel Ministero della Giustizia, è finito anche nel mirino. Andiamo adesso nell'edizione di Teramo, rogo, ordine di bonifica per l'amianto, poi più tardi vedremo anche un servizio, provvedimento Aslo dopo un sopralluogo, la Procura sequestra il capannone. Le vicende che riguardano invece il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, minacce di morte a Costantini, il sindaco nel mirino dopo lo sgombero nel campo occupato, il campetto occupato. Il basket, ieri giornata infrasettimanale, Roseto vince ancora e si impone a Fabriano di 2 punti, vediamo 77-75 con un tiro da 3 allo scadere. L'edizione di Chieti Lanciano, vasto, maxirogo, qui si parla del maxirogo alla magma e scontro Shell Ferrara, il DG della Aslo, scrive al prefetto e attacca il sindaco, da lui comunicazioni in ritardo. Ortona, dengue, terzo caso in un mese, infettato dalla Zanzara, un residente di Contrada San Donato, nuove operazioni di disinfestazione, Santa Maria in Baro, 15enne sparita, la ricerca in Campania. E poi l'edizione dell'Aquila, Vezzano Sulmona, residenze in fiamme, grave un operaio a Pescasseroli, il quarantenne intossicato, trasferito all'Aquila, sgomberate due abitazioni. L'intervista a Giorgio Paravano, sentenze shock, cuore l'Aquila, prosegue la raccolta fondi per le spese legali ai familiari, ricordiamo oltre 6 mila Euro provenienti dalle tasche non soltanto degli Aquilani, tanto ammonta, tanto ammonta il tesoretto di solidarietà in continuo aggiornamento nell'ambito della raccolta fondi lanciata a sostegno dei familiari delle vittime universitarie del terremoto dell'Aquila. Avete letto le notizie che riguardano questa tragedia, le sentenze che sono state emesse, addirittura si è parlato anche di incauto comportamento da parte degli studenti che sono rimasti vittime appunto nel terremoto, drammatico terremoto di ormai 15 anni fa. La storia chiara riapre un'edicola, la mia sfida a Magliano. Lasciamo il centro, andiamo direttamente sulla prima pagina del messaggero. Fabbriche in fiamme, non c'è inquinamento, chemipole magma, analisi negative a Pineto e Chieti per la vicenda di Pineto, però va detto che c'è il rischio amianto. Pesca a seroli, incendio, divora il tetto del resident, sgomberate, due abitazioni vicine. Il ragazzino pugnalato per gelosia. Pescara, lo studente accoltellato per una giovane contesa, la polizia ferma un 18enne, il ferito ancora grave, ma fortunatamente fuori pericolo, aveva cercato rifugio all'interno di una farmacia. Pastore sotto processo per violenza sessuale, un pastore dovrà affrontare all'Aquila il processo perché è accusato di violenza sessuale e rapina. La vicenda giudiziaria è accaduta l'8 aprile scorso in città quando un ragazzo di 33 anni di professione pastore, residente a Dofena, decide di avere un rapporto con una prostituta. Lanciano, la coppia potrebbe essere in campagna e caccia i fidanzatini in fuga, lei ha 15 anni. Taglio basso, Rosticini e Montepulciano, la vetrina G7, la promozione dei prodotti tipici abruzzesi, però l'Abruzzo non è solo Arrosticini o solo Montepulciano, Montepulciano sicuramente è il re dei vini in Abruzzo, l'eccellenza per quanto riguarda la produzione enologica, la produzione di vini, per quanto riguarda gli Arrosticini va detto che l'Abruzzo non ha una produzione di carne così importante per soddisfare il fabbisogno generale, vero è che l'Arrosticino è un simbolo dell'Abruzzo ma non è sicuramente l'unico simbolo, tra le altre cose bisogna creare il marchio DOP proprio perché serve a distinguere l'Arrosticino prodotto con carni abruzzesi, quindi del territorio, dagli Arrosticini prodotti con carni di allevamento, quindi pecore di allevamento in altre nazioni, pensiamo al Portogallo, Francia, Spagna, bisogna leggere ovviamente l'etichetta per accorgersi che non tutte le carni sono abruzzesi, anzi quelle sicuramente sono la minima parte, andiamo avanti comunque alla Fiera di Lanciano per trovare un lavoro, domanda e offerta di posti negli stand dal 17 al 19 ottobre. Taglio alto, Temptation Island, l'influencer della cioppa, voglio fare il nutrizionista, poi musica, premio Tenko a Mimmo Locasciulli, grande onore. Il calcio, la Serie C, Lascoli stava per ingaggiare Zeman, Baldini si ritroverà contro Tesser, Boemo non è stato ingaggiato perché i medici gli hanno sconsigliato di tornare sulle panchine. A 24 e a 25 tagli e ritardi, sindaci di nuovo all'attacco, la rappresentante dei primi cittadini, Velia Nazaro, convocate il tavolo, diminuiti i finanziamenti per 117 milioni, andranno ad incidere sulle manutenzioni. In ballo la sicurezza di ponti e viadotti, per cui si era impegnata a strada dei parchi i nuovi sviluppi. Finora la lunga trattativa con il governo aveva aperto uno spiraglio, poi lo stop. Sanità, il piano della regione contro le dimissioni affrettate, il percorso di cura seguirà il paziente sia in ospedale sia a domicilio o in altre strutture specializzate. A Pescara ha preso l'accoltellatore, una ragazza contesa la causa dell'agguato in manette. Dopo una notte di ricerche, un 18enne si nascondeva dai parenti. Scatta l'accusa di tentato omicidio, migliorano comunque le condizioni del minorenne. Finito in ospedale, la vittima voleva difendere l'amico ex fidanzato di lei, nuove polemiche per la sicurezza nel centro città a Pescara. Evasione raffica in pochi mesi, ora stop ai domiciliari, un trentenne di penne finito a San Donato, sorpreso a passeggio quattro volte. Giovani come avatar violenti imbadia dei capi branco, scuola e famiglie sotto accusa. Tre scrittori analizzano la catena di episodi recenti, Maristella Lippolis, il modello maschile, si rivela malato. Aule, verde e biblioteche, come sarà il nuovo campus, le carte del progetto di ristrutturazione di Via Lepindaro svelate da Paolo Fusero, il direttore di architettura ha coordinato il lavoro dei dipartimenti politecnici dell'Udall'Università d'Annunzio. Intorno ai tre corpi di fabbrica attuali, nuovi spazi per la didattica, nasce la cittadella dell'Università. La battaglia dei semafori trappola, senza omologazione e niente multe. Dal sindaco Masci risposte vaghe, il gruppo Dem torna alla carica sui sei incroci presidiati dai T-Red. A Pescara i più grandi giallisti siamo la capitale del brivido. A conclusione dell'edizione 2024, il bilancio del presidente Carmine Ciofani, ora pensiamo al cinema. Io, il figlio di un prefetto, faccio strage di cuore in TV da uomini e donne a Temptation Island, tutti i successi di Andrea della Cioppa, il bel pescarese di 32 anni e anche influencer e personal trainer, ma senza dimenticare i libri. Lui ha sempre approvato, dice del papà Mario, rigoroso uomo delle istituzioni, ora sogno Pechino, Express, praticamente se li fa tutti questi programmi che hanno a che fare con il live. Il debutto, concerti, Benedetto Lupo apre la stagione e poi la carriera, il premio Tenko a Mimolo Casciulli, onorato di essere tra i big della musica, dal folk studio a Sanremo, il medico cantautore pennese sul podio con Caterina Caselli, Diodato e Tuglio De Piscopo. Oltre 1000 kg di pesce sotto sequestro, controlli a tappeto dopo la fine del fermo, sono 39 le sanzioni distribuite dalla Guardia Costiera, i casi più gravi a Pescara e Francavilla al mare. Misericordia via al corso per volontari soccorritori. Andiamo all'Aquila, l'incendio in cattedrale, risanercimento milionario, accordo vicino tra curi e assicurazione per 1,7 milioni di Euro per il restauro. Gli imputati, i due operai della ditta, hanno chiesto il rito abbreviato. Il rogo, causato da un errore durante i lavori di ripristino, ha distrutto parti importanti di coro e sacrestia. Violenza e rapina a una prostituta, pastore 33enne, finisce alla sbara, abbiamo letto in prima pagina la notizia, accusato di non aver rispettato l'accordo, sottraendole denaro, è stato arrestato per violazione dell'obbligo di dimora. Lexina ma ancora nel più totale degrado, i residenti chiedono sicurezza e decoro, dopo mesi di stallo la lettera sul cambio di destinazione d'uso è pronta, ma si invocano interventi immediati. Recupero del dialetto, premiate le scuole, si è svolta la seconda edizione del concorso delle canzoni in dialetto abruzzese, dal titolo Go School 2024, Iemo alla scuola. Il concorso, bandito dalla sede regionale delle Acli, era riservato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della regione Abruzzo. Ancora avanti, ospedale Faine, sul tetto scatta il sistema di allerta, animali avvistati al San Salvatore, un episodio anche all'interno dell'edificio, pronta la risposta dell'azienda sanitaria, trappole per la crattura e l'allontanamento delle faine. La contesa sull'uso di Palazzo Federici, Confcommercio, rimangano i negozi. Artista dona un'opera al Monastero di San Basilio, solidarietà artistica e spirituale di Morena Antonucci, la missione ritrae i Santi Agostino Celestino e Benedetto. La Pascasi presenta un tempo minimo, con la Silloge un tempo minimo, la poliedrica Selene Pascasi, avvocato per un ventennio, ora funzionario tributario, giornalista, firma del gruppo 24 Ore, paroliere e critico musicale, torna ad emozionare i lettori. L'opera pubblicata da eretica edizione di Giordano Criscuolo sarà in vendita dal 7 ottobre sugli store online e nelle migliori librerie. Carlesi, il ciclista che conquistò l'Aquila, è morto a 87 anni, qui vinse la tappa del Giro d'Italia del 1965. Di parola festival sul linguaggio chiaro, incendio in un residence, grave operaio, le fiamme sono divampate durante lavori di manutenzione, distrutto il tetto e sgomberate due abitazioni, indagini in corso, il rogo è stato domato dai vigili del fuoco dopo diverse ore e l'afferito ricoverato d'urgenza per aver inalato fumo tossico. Un viaggio di 4.300 km da Sulmona alla Sahara parte Bike Experience ad Avezzano, attesa per la PIS di Santo Maggio. Aciam ad Avezzano salvi 90 dipendenti, mentre il socio privato annuncia lo stesso giorno una specializzazione universitaria per i nuovi assunti. Marsica, treni nel totale caos, rampe dell'autostrada in tilt, preoccupazione tra i pendolari verso la capitale, l'avvertenza, sanità in crisi parte da Sulmona, la carovana dei diritti della CGL e il sindacato inizia un viaggio di protesta in tutta la provincia. Andiamo a Chieti adesso, via l'inchiesta sul rogo, sentiti operai e tecnici, procura alcuni dipendenti della magma, fiamme ripartite vicino a un macchinario, ritardi nella comunicazione dell'incendio, direttore generale della ASLA accusa Ferrara, risposta al vetriolo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, i vigili del fuoco alla lavoro tra bonifica e sgombero rifiuti. Si riunisce l'Accademia Italiana, congresso of Thalmology in 400 all'Unic, l'Università di Chieti. Si è insediato il nuovo prefetto Cupello, sicurezza del territorio, resti attrattivo. La sentenza, regolamento di conti a colpi di baseball, mazza baseball, condannati i fratelli Amidei e Insolia. Le tre farmacie comunali aderiscono ai servizi gratuiti. Fuga d'amore, parliamo della ragazza che si è allontanata da Lanciano, caccia ai fidanzatini, i giovanissimi Ennio e Chiara hanno il telefonino spento, verifiche su una segnalazione da Isernia, si cerca in campagna. La denuncia era partita dalla sorella della quindicenne, vengano controllati hotel, B&B, ristorante e bus per Napoli. All'origine della scomparsa potrebbe esserci il classico allontanamento di innamorati. Il 17enne era andato a Spello, ragazzo in fuga, ma poi contatta i genitori. Altro episodio. Ortona, Focolaio, Dengue, terzo caso in pochi giorni, una disinfestazione prevista nelle prossime ore, tre notti in contrada. San Donato per eliminare le zanzare che sono il veicolo che trasporta poi questo virus. Avvasto, attraversamenti pedonali pericolosi, via al censimento per le modifiche di fatto impraticabili da persone in carrozzella e passeggini. San Salvo, restyling dell'impianto, torna la pista Mennea. Stellantis, Profondo Rosso, ancora a cassa integrazione nell'azienda che produce i mezzi della Fiat. Andiamo a Teramo adesso, ricostruzione svolta per 14 palazzi dell'Atere, presi in carico dall'USRE, si riparte con approvazione di progetti e lavori, arrivati anche 4 milioni per il Braga. Ad Alberto, ora possiamo procedere, il Presidente Marsilio, pratiche sbagliate, si ipotizzava il recupero di strutture che andavano demolite. Location K.O. Premio di Venanzo nel tendone in Piazza Martiri, ce ne aveva parlato esattamente una settimana fa Piero Chiarini, il Presidente di Teramo Nostra, che ha organizzato il premio di Venanzo, 29 edizioni per quanto riguarda questo evento. Era stata chiesta la sala polifunzionale, ma lì non c'è l'autorizzazione per poter procedere l'agibilità, manca il certificato, rimbalzi di responsabilità tra provincia e regione, sta di fatto che verrà allestito il tendone in Piazza Martiri della Libertà. Come dicevamo, sala polifunzionale ristrutturata, ma chiusa da 13 mesi per un certificato antincendio che non arriva, perché non c'è l'agibilità ad oggi. Con l'atterrato entrano nel casolare 6 ragazzi identificati. Il processo, Gran Sasso, Giambuzzi, acqua non inquinata, la Ruzzo faceva più di 2 mila controlli l'anno. L'inchiesta donna uccisa da un fulmine in spiaggia. Perizia sulla scatola nera del defibrillatore, perché pare che il defibrillatore non funzionasse. Andiamo adesso sulla costa. Rogo Chemipol, sopralluogo dell'Asl. Le prime analisi hanno escluso contaminazione dell'area, poi rimane comunque l'incognita dei manufatti in fibra di amianto. Il ritorno al lavoro sarà possibile solo dopo la bonifica delle fibre cancerogene ritrovate intorno alla zona. La procura ha aperto un fascicolo, ma al momento non ci sono indagati. Noi ce ne siamo occupati abbondantemente, vi abbiamo dato conto di quello che era successo l'altro giorno, poi siamo tornati sul posto, adesso stiamo seguendo tutta la procedura, le indagini che nel fattempo hanno permesso di accertare la presenza di fibre di amianto. Vediamo il servizio. A due giorni dallo spaventoso incendio che ha distrutto letteralmente la fabbrica chemical nella zona industriale di Scerne di Pineto, ci si interroga ancora su come siano andati realmente i fatti per scatenare un evento di proporzioni così enormi da allarmare tutta la vallata del Vomano. Il primo passo intanto è stato fatto, ossia lo spegnimento di tutto l'incendio all'interno del fabbricato, con un grande lavoro dei vigili del fuoco della provincia e non. Questa mattina sopra luogo da parte dell'ente pinetese, ma soprattutto da parte dell'asli di Teramo, per capire realmente come procedere a bonificare il tutto, data la presenza di amianto, come ci conferma al telefono il sindaco di Pineto, Alberto dell'Orletto. È stata confermata, ma non ci sono problematiche particolari dal punto di vista della salubrità dell'ardia, non sono state riscontrate evenienze negative e quindi adesso hanno fatto comunque degli ulteriori campionamenti e dobbiamo attenderne specifici, dobbiamo attenderne l'esito. La tendenza che già l'ASL ieri ci aveva assicurato è che comunque non c'era una situazione di pericolo, di tossicità e che era tutto confinato al sito del sinistro. Devono essere avviate, questo me lo avevano già anticipato le operazioni di bonifica, quindi non appena ricevuta la relazione tecnica dei vigili del fuoco metterò ordinanza contingibile e urgente per ovviamente ripristinare, bonificare il sito dell'incendio e i siti che in qualche modo hanno accusato la ricezione di detriti provenienti dallo stabilimento incendiato. E proprio la Chemipol con una nota ha ribadito comunque di voler riprendere l'attività lavorativa nel più breve tempo possibile. Mentre per quanto riguarda ordinanze dei due comuni più vicini all'incendio, ovvero Pineto e Roseto, le restrizioni sono allentate, attività didattica ripresa questa mattina. Resta però da capire già da domani se ce ne saranno altri dopo il sopra il luogo di questa mattina della ASL. Ricordiamo che il capannone è stato sequestrato ed è stato disposto a un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno alla fabbrica. Giuliano Vasgombero del campetto occupato, insulti e minacce di morte al sindaco. Il primo cittadino avrebbe voluto l'intervento delle forze dell'ordine. Chiesa annunziata, cupola colpita dal fulmine, siamo a Montepagano, iniziati i lavori di restyling. La nuova comandante del porto di Giulianova, risolveremo i problemi. Andiamo sulle pagine sportive. Pescara niente sfida con il mago Zeman, in terra picena si era diffusa la notizia di un possibile arrivo del boemo ad Ascoli. I medici però non gli hanno ancora dato l'ok per il rientro. In panchina ci sarà tesseri, supporto al tecnico Silvio Baldini di Militello di striscia alla notizia. E poi tifosi, stop vendita biglietti, sono solo 565. Supporter in Subbuglio per la Fidelity Card, per le trasferte, alcuni gruppi, non ci piegheremo. Atletica leggera, Gaia Sabatini costretta a operarsi al piede, ho il morbo di Aglond, ora lavorerò duro. Nell'amichevole il volley, nell'amichevole la siega ortona, vince ma deve ancora crescere. Il basket, il roseto ora non si ferma più, ma questa volta grande sofferenza in casa del Fabriano ed è servito un tiro da 3 punti di Aukstig Kalvnis nelle battute finali per vincere la partita. Gli Adriatici hanno vinto 77-75 dopo aver primeggiato per buona parte il match. Tiberti e C, un po' stanchi. Il Chieti concede il bis e vince a Iesi, Teatini superano i marchigiani 70-64. Per i ragazzi di Coach Lardo uno strepitoso ultimo quarto, 5 giocatori in doppia cifra. Vediamo i risultati di ieri, seconda giornata del campionato di Serie B, Girone B, Latina-Rieti 84-91, Fabo-Ernons-Montecatini, Virtus Roma 79-74, Gemma-Montecatini, Umanaciusi 74-60, General Iesi Chieti Basket 64-70, Luis Roma All Sansevero 86-54, dunque dopo la batosta contro Roseto la Luis si risolleva, Paper di Caserta, Power Salerno 70-83, poi Sant'Antimo, Ruvo di Puglia 80-85, Aristoprof, Fabriano, Leo Filchem Roseto 75-77, Piombino, PL Livorno 62-70, questa sera Ravenna, Virtus Cassino, questa è la classifica, ve la mostro, insomma con Roseto a punteggio pieno assieme al Chieti. si gioca adesso nel prossimo turno domenica, 6 ottobre, questo è il quadro delle partite con Roseto che affronterà Rieti in casa. Se Rieti il calcio notaresco serve carattere nelle fasi finali dei match, se le partite durassero fino al settantesimo sarebbe secondo in classifica, ma con i secconi, ma non si va da nessuna parte. Eccellenza sul Mona in grana alla quarta, la Vetta dista pochi punti e poi ancora eccellenza, vasto, cercasi allenatore, domenica si gioca al Pepe, Mangiapane esonerato e dopo i risultati non soddisfacenti, ma nell'ultimo turno di campionato Mangiapane comunque aveva pareggiato in trasferta una gara importante. Bene, tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa, noi ci ritroveremo più tardi alle 9 con l'appuntamento a colazione e questa mattina parleremo soprattutto di sommelier, parleremo di vini e non solo, l'informazione invece alle 14 con la prima edizione del G News a seguire il G Sport, adesso vi lascio all'oroscopo, alle previsioni meteo di Marco Di Loreto. Grazie e buona giornata!